Mio figlio ha sacrificato la sua vita per salvarmi. Ma una maledizione... ...nata dalla rabbia. Questa mina vagante deve essere bloccata. È stato addormentato per 5.000 anni. Lei trovi una cella che possa trattenerlo. Io non ho il passaporto. Non ci serve il passaporto. Se so sai, è te. Siamo qui per negoziare i termini della tua resa pacifica. Io non voglio rendermi. Ci siamo. Non sei qui per cercare giustizia. Non ho mai detto di essere un eroe. Anzi, di non essere degno. Ma il fato non commette errori. Hai due possibilità. Puoi essere il distruttore di questo mondo. Oppure il suo salvatore. Monza ha sozusagen. ニ node sim Warriors. Trajè. Ci siamo tutti che sono Stefani. Ma prima o mesta.